La traduzione, Alan, a me sembra che Conte dica Giorgia, sono io il tuo interlocutore. Parla con me, fallo con me il duello. No? Volebbe, ma non può. Chiaramente sembra che Conte vorebbe far parte della partita perché lui ha 16% e il terzo partito e vorebbe essere considerato. Ma secondo me ci sono due soluzioni qui. Uno è che è giusto avere i primi due partiti che sarebbe Fratelli d'Italia e il PD in un dibattito storico fra due donne. Questo mi piacerebbe vedere. Poi che Bruno Vespa sia l'interlocutore migliore possiamo discutere. Ma credo che ci sia spazio anche per un... non chiamerei una tribuna politica perché sembra Rai Parlamento ma un dibattito in cui ci sono anche cinque o sei persone che sarebbero Schlein, Maloney, Calenda, Tajani... Proposta mentana, mi pare che sposi Alan Friedman. La proposta mentana. Ma io dico che tutti e due ci stanno. In America noi non abbiamo solo un dibattito. E poi se posso dirvi una cosa analoga negli Stati Uniti scusami, che è importante... Dove rispondere. È Conte. È Conte che si lamenta. No ma oggi non mi sono lasciato andare e non ho detto che Giuseppe Conte è il populista più populista che c'è. Non ho detto... Ma adesso richiama allora. Non ho detto che è un demagogico... Fatelo concludere che ho tante cose da chiedervi. Vai. Allora, quello che volevo dire è semplice. In America Biden e Trump si stanno concordando un dibattito fra di loro che esclude il terzo partito di Robert F. Kennedy Jr. Questo perché? Perché non vogliono nessuno dei due che Kennedy toglie spazio ai voti. In Italia Maloney e Schlein reciprocamente hanno l'interesse di escludere gli altri perché non vogliono che gli altri prendono spazio. Né la Lega sulla destra o i liberali di Forza Italia né Conte o gli altri di sinistra. Quindi Schlein e Maloney hanno l'interesse politico a escludere gli altri. Cominciamo lì. Ok, ok. Dopodiché però chiedo a Sandra, e arrivo anche dall'onorevole Tovaglieri, e... Ehm...